Il Presidente Zaia ha mandato ieri questo comunicato. Oggi ricordiamo con profonda commozione il quarto anniversario di un periodo drammatico che ha segnato indelebilmente la nostra storia. Come Presidente di una Regione che ha visto i primi casi e il primo tragico decesso legati al Covid nel panorama nazionale, non posso che rivolgere il mio pensiero alle 17.000 e alle loro famiglie, colpite da un dolore insopportabile in circostanze spesso prive perfino di un conforto o di un ultimo saluto. Allo stesso tempo esprimo solidarietà a coloro che hanno lottato contro la malattia e i ricoveri, superando le avversità ma affrontando una faticosa ripresa. La pandemia è stato un periodo difficile che, con determinazione e sacrificio, siamo riusciti a superare. Oggi è il momento di riconoscere il coraggio e l'impegno di tutti coloro che hanno lottato in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell'ordine, forze armate, protezione civile, volontari e tutti coloro che hanno contribuito, nel rispetto delle regole, a sconfiggere questo flagello. La resilienza dimostrata dalla nostra comunità rimarrà un patrimonio, un prezioso patrimonio per il futuro. Con gratitudine e ammirazione guardiamo avanti, consapevoli della forza che ci ha uniti durante questo periodo difficile. Il Presidente Luther Zell. Aragoste, astici, granseole, granchiporri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.